Il Ministero degli Interni finanzia un progetto per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket delle estorsioni. Progetto presentato da Confindustria e Fondazione Bon Samaritano di Foggia. Abbiamo sentito il Presidente della Fondazione, Pippo Cavaliere. Presidente, come verranno utilizzati questi 170 mila euro ricevuti dalla Fondazione da parte del Ministero degli Interni? Beh, verranno utilizzati per questa specifica finalità. In questi 26 anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo verificato, abbiamo maturato la consapevolezza che l'unico modo per affrontare questo e sradicare questo fenomeno usurario, che è forse uno dei reati più brutti, più odiosi che possa esistere, perché è un reato che approfitta dello stato di bisogno e di disperazione della gente, è la denuncia. Bisogna denunciare sia il reato di usura che il reato di estorsione. Io in questo contesto, in questa circostanza, voglio rassicurare le vittime di usura e di estorsione perché in questi ultimi anni, tutte le volte che noi abbiamo prodotto una denuncia, e ce ne sono state tante, c'è stata sempre la risposta immediata da parte dello Stato. Ma la cosa più importante è che nel momento in cui una vittima di usura o di estorsione denuncia, lo Stato provvede a risarcire la vittima, il denunciante, dei danni patiti e subiti. Racket delle estorsioni e usura sono due facce della stessa medaglia, cioè sono gestite entrambe dalla criminalità organizzata, dalla mafia foggiana? No, le devo dire che le esperienze che noi abbiamo maturato in questi 26 anni ci danno un quadro molto molto chiaro. La casistica è molto ampia. Indubbiamente ci siamo trovati di fronte a casi in cui l'usura veniva esercitata, veniva svolta da noti esponenti della criminalità organizzata locale, appartenenti alle cosiddette famiglie. Altre volte con grande sorpresa ci siamo trovati di fronte a persone insospettabili. Presidente, questo è un altro passo verso la crescita dell'antimafia sociale a Foggia? Sì, io ritengo che l'antimafia sociale a Foggia esiste. Esiste ma deve farsi sentire ancora con maggiore forza e autorevolezza. La lotta al crimine, la lotta alla mafia non può essere demandata esclusivamente allo Stato, ma non perché lo Stato non sia in grado di fronteggiare una situazione del genere, ma perché il fenomeno è talmente ampio che deve essere portato avanti attraverso una rivoluzione culturale. Una rivoluzione culturale che deve coinvolgere essenzialmente i giovani, coloro i quali, come diceva Borsellino, Borsellino sono i più propensi a respirare il profumo della libertà e a respingere il puzzo del compromesso.